Bassano del Grappa invasa dagli alpini. Una grande emozione tornare a vedere per la città le penne nere in divisa passeggiare per le vie del centro, ma soprattutto un'emozione fermarsi nelle piazze ad ascoltare le note dei brani che hanno caratterizzato le sfilate alpine suonate dalla fanfara della brigata Iulia, aspettando la grande giornata di sabato con la consegna del cappello ai giovani militari volontari in ferma iniziale. E' emozionante ritornare qua che è già stata sede di alpini, di reparti alpini e domani vedremo anche di far capire a questi nuovi alpini che non conta soltanto il capo di corredo che si metteranno sulla testa ma anche una serie di valori che verranno espressi anche dalla presenza di numerosi vecchi cosiddetti veci che consegneranno loro il cappello e magari anche se ha intenzione di dargli anche un primo incipit per far parte della grande famiglia alpina cioè dell'associazione nazionale alpini quindi la tessera dell'associazione nazionale alpini. Lo sapevamo che sarebbe stato bello ed emozionante ma la realtà supera veramente la fantasia. Rivedere Bassano piena dei suoi alpini sia pur degli allievi che riceveranno solo domani il cappello dopo la fine del corso è una cosa che riempie il cuore. Cosa significa per voi alpini bassanesi? Significa speranza. Che effetto fa rivedere Bassano invasa? Siamo parte degli alpini, siamo alpini, artiglieri, siamo un po' abituati a vedere questo tipo di abbigliamento diciamo. Bassano nuovamente invasa dagli alpini una grande emozione. Certo come sempre quando ci sono gli alpini noi che siamo poi affezionati a Bassano che è la città alpina e anche noi riceguiamo. E tanti bassanesi che hanno voluto rendere omaggio alle amate penne nere ricordando la straordinaria adunata nazionale del 2008 ricordando la storica caserma Montegrappa.